Infanzia, diritti dei minori ancora negati, tra povertà, carenza di servizi e mancanza di coordinamento delle strutture preposte alla tutela. Diffuso oggi l'ottavo rapporto di monitoraggio del gruppo CRC, che fa il punto sull'attuazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia. Si va dalla salute all'educazione, ci sono delle cose abbastanza ecratanti su cui chiederemo l'impegno da parte del Governo, pensiamo anche ai minori fuori dalla famiglia. Non è accettabile che ad oggi i dati riferiti a questi minori siano ancora quelli del 21 dicembre 2012, quindi ci sia coerenza di dato tra quelli forniti dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e quelli del Dipartimento della Giustizia Minorile. L'UISP è tra le 90 associazioni del gruppo CRC e ha collaborato alla stesura dei capitoli su azzardopatia e su sport minori. Per quanto riguarda sport minori rileviamo purtroppo che molte delle raccomandazioni di fatto sono reiterate dall'anno scorso e dai rapporti precedenti, a conferma di quello che diciamo da un po' che manca un investimento strutturale da parte delle istituzioni a più livelli rispetto al tema. A complicare ulteriormente le cose, c'è tutta la questione legata al decreto Balduzzi e quindi alla certificazione medico-sanitaria rispetto agli atleti e anche dei minori. Rispetto al gioco d'azzardo abbiamo ovviamente dato seguito a quello che è il nostro lavoro sul tema e abbiamo individuato, come dire, a parte alcune raccomandazioni, nel modello del gioco d'azzardo liberalizzato, quindi orientato alla produzione di profitto per alcuni a scapito delle fasce più deboli della popolazione, evidentemente l'obiettivo da attaccare. Alla conferenza stampa ha presenziato anche il ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti. L'associazionismo, il volontariato, gli enti locali è una componente essenziale, ma io credo che noi se vogliamo parlare di benessere dobbiamo tenere insieme tutte le componenti, quindi dal punto di vista sociale, culturale, sportivo, fisico, sanitario. Lo sforzo grande che va fatto è quello di superare la verticalità, la divisione, la separazione delle diverse politiche e dei diversi soggetti che pur avendo una competenza specialistica che è necessaria per fare bene le cose, dobbiamo trovare sedi e momenti nei quali le diverse politiche e le diverse azioni si parlano, perché lo sport se non parla con la scuola o non parla con la famiglia è molto difficile che riesca a produrre il migliore dei risultati. È semplice, però va costruito strutturalmente, quindi io penso che se noi riusciremo a montare politiche capaci di premiare chi agisse con questa logica otterremo un miglior risultato, quindi non è che imporremo obblighi, ma io credo che dovremmo usare politiche di premialità che dicono se hai un comportamento attivo nella direzione del far coagire ai diversi soggetti avrai qualcosa in più, avrai una responsabilità in più, avrai un euro in più. Io penso che questo possa funzionare.